Molti minerali. Ho letto che nella crosta terrestre la maggior parte degli elementi si presenta sotto forma di minerali. Molti minerali danno origine a cristalli che si formano lentamente da una massa magmatica all'interno della crosta terrestre o per precipitazione da soluzioni acquose in vicinanza della superficie terrestre. In questo trionfo di materia, dove è Dio? Commento. Dio è nella crosta terrestre, negli elementi, nei minerali, nei cristalli, nella massa magmatica, nelle soluzioni acquose che precipitano in vicinanza della superficie terrestre, nella vicinanza della superficie terrestre e nella superficie terrestre. Per questo Dio è l'assoluto.